Possiamo scambiare due battute prima dell'evento? Beh, prima dell'evento c'è da dire che comunque è iniziata l'età dell'angoscia Ah, giusto Già, ormai se ne stanno rendendo conto più o meno Porca miseria Vedi, è così Oh, vabbè ragazzi, bisogna dire la verità, bisogna dire Hanno fatto il premio del più bello del circondario E indovinate chi ha vinto? È lui Nooo È tutto lui che ha vinto È incredibile Ah, sì, giusto Devo avere una tarita di tascazzo Grazie a tutti 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 Grazie.